Un ben ritrovato con la nostra informazione in apertura di giornale La Cronaca, un litigio iniziato per futili motivi e finito con il tentato omicidio di un giovane rumeno ferito al volto da una coltellata che gli ha anche quasi reciso la gola. Il giovane è stato salvato dall'intervento di un suo amico che ha assistito alla lite e lo ha portato in poco tempo nel vicino ospedale di Alessandria dove poi è stato operato. La vicenda è iniziata l'altra notte in circonvallazione fuori da un bar di spalto Rovereto. I malviventi sono stati rintracciati in meno di 24 ore e arrestati dalla squadra mobile. Durante la perquisizione a casa di uno dei due è stato trovato mezzo chilo circa di droga e 100 mila euro in contanti. Protagonisti di questa storia un algerino, un italiano e la vittima, un giovane rumeno di 26 anni. Fermati per l'aggressione, Moulai Faikalla, algerino di 40 anni che dovrebbe essere l'accoltellatore ma anche lo spacciatore trovato con droga e 100 mila euro. E poi Manuel Montaldi accusato di complicità nel tentato omicidio che un italiano di Mede, 44 anni, è residente a Valmadonna. Gli arresti sono avvenuti grazie all'impiego di decine di uomini dalla questura di Alessandria che li hanno cercati per quasi un giorno intero e alla fine li hanno catturati. Nella ricostruzione del capo della squadra mobile e del capo di gabinetto della polizia sembra che i tre si siano incontrati nel bar e che dopo aver bevuto a un certo punto, non si sa bene per quale motivo, sia nata una lite. L'algerino di 40 anni ha estratto un coltello e ferito il rumeno. Gli uomini dalla questura, grazie alle telecamere, sono riusciti a individuare gli altri due protagonisti della notte. L'algerino, spacciatore, è stato rintracciato in piazza Fabrizio De Andrè. Quando il ricercato si è accorto dalla polizia è fuggito prima verso piazza Perosi e poi in viale Teresa Michel dove è stato bloccato dagli agenti partiti all'inseguimento. La polizia ha recuperato i due coltelli di cui si era disfatto uno ancora sporco di sangue. Ha scelto il rito abbreviato il medico Massimiliano Ammenti che lo scorso giugno ha ucciso a coltellate il collega Stefano Iuvara di 47 anni. Il delitto si era verificato in regione Varacca Bassa, San Martino di Rosignano dove la vittima era stata ritrovata esamine. Conclusi le indagini, ora l'omicida con l'abbreviato potrà evitare l'ergastolo. I due si conoscevano, erano colleghi all'ospedale Santo Spirito di Casale. Un'altra storia, gredile parroco forse per motivi di denaro. Condannato a sei anni in abbreviato per tentato omicidio un agricoltore di Rivalta Bormida. Non voleva uccidere, questa è la sua tesi. Massimo Giuliano, l'agricoltore 34enne di Rivalta Bormida che la mattina del 10 febbraio 2017 ha aggredito il parroco del paese Don Roberto Feletto, 78 anni, è stato condannato in abbreviato dal gruppo di Alessandria Stefano Moltrasio a sei anni di reclusione. Rispondeva di tentato omicidio, ha ottenuto l'attenuante del risarcimento danni. Armato di un bastone, lui ha detto di averlo trovato lì per caso, si avventò sull'anziano sacerdote colpendolo con violenza così da causargli serie lesioni. Poi cercò di strozzarlo. I lamenti di Don Feletto furono uditi da due marocchini che abitano in una casa vicina. Fece riruzione nella canonica e liberarono sacerdote dalla morsa delle mani di Giuliano. Forse neppure lui aveva veramente l'intenzione di strozzarlo. Tant'è che poco dopo l'arresto, la sua prima preoccupazione fu di domandare Don Roberto come sta? L'imputato difeso da Giuseppe Lanzavecchia ha sempre detto che non intendeva uccidere. Ma perché quella feroce aggressione? Non si conosce esattamente il motivo. L'agricoltore che ha problemi caratteriali era andato altre volte in canonica per chiedere soldi al parroco. Ne voleva ancora. Lui per la verità ha detto che al contrario era andato per restituire almeno in parte quanto aveva ricevuto. Voleva dargli un assegno ma Don Feletto pretendeva denaro contante e lui non l'aveva. Che sia stato questo o un altro pretesto che gli fece saltare la mosca al naso poco conta. Conta invece il fatto che si accanì sull'anziano guarito dopo parecchi mesi. Continua la polemica sulla legge regionale di contrasto al gioco d'azzardo. Il presidente della federazione italiana Tabaccai annuncia una protesta a Torino con il coinvolgimento di tutta la categoria. Non si placano le ire di produttori e gestori delle slot machine dopo che la regione Piemonte ha messo i paletti sul gioco d'azzardo con una legge ancora più restrittiva di quella nazionale. Il presidente della federazione italiana Tabaccai Giovanni Risso ha infatti annunciato di essere pronto ad una mobilitazione di protesta davanti alla sede regionale a Torino, ribadendo che il proibizionismo non è mai una soluzione. Smantellare il gioco pubblico legale, ha detto, sarà un regalo alla criminalità, riporterà le persone nelle vische e rischia di dare il colpo di grazia al nostro settore già in crisi. In Piemonte si sta consumando un delitto alla libertà d'impresa, un dissenso per nulla pacato che accusa la giunta di Chiamparino di una totale chiusura e di un attacco mosso da demagogia e numeri gonfiati ad hoc per eliminare del tutto anche la rete delle macchinette legali, così da spazzare via l'intera categoria. La legge regionale, fortemente voluta dal governo piemontese ed entrata in vigore nel novembre dello scorso anno, impone una distanza minima delle slot machine che non devono essere collocate in locali a meno di 500 metri da luoghi cosiddetti sensibili, vale a dire scuole, ospedali ed impianti sportivi, limitando anche le ore di gioco. Era stato lo stesso presidente Sergio Chiamparino ad annunciarla con grande soddisfazione. Con questa discussione aveva dichiarato mi pare si metta una parola chiara e definitiva che ci permette di assumerci piena responsabilità per garantire l'applicazione di questa importante legge. Esprimo l'orgoglio che il Piemonte sia una delle prime regioni ad aver approvato una legge netta e mi auguro efficace contro la ludopatia, terribile patologia che colpisce soprattutto le fasce più povere e indifese della popolazione. In effetti, gonfiati o meno, i numeri parlano chiaro. Il gioco d'azzardo in Italia muove qualcosa come più di 95 miliardi, contribuendo ad un'impressionante crescita del PIL. Giocano un po' tutti. Si parla del 55% degli italiani che almeno una volta all'anno si lasciano contagiare dall'ebbrezza dell'azzardo. Di questi un milione nella lista dei patologi, ma si stima che almeno due milioni e mezzo della popolazione adulta si trascini di slot in slot, tentando la fortuna anche attraverso i grattevinci o il lotto. In attesa dei dati del 2017, l'anno prima è stato un boom fuori da ogni logica. Un'epidemia contagiosa che ha fatto del gioco d'azzardo il nuovo cancro dei nostri tempi, con costi esorbitanti per il recupero, di che è caduto violentemente in quello che i medici definiscono un pericoloso buco nero. Fra 15 giorni si andrà a votare. Cosa ne pensano gli alessandrini di questa campagna elettorale? Hanno già deciso soprattutto se recarsi alle urne oppure no? Noi siamo andati a chiedergli la loro servizio. Questo non è un sondaggio, ma è un modo per provare ad entrare nell'ottica degli italiani e capire perché a 15 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo ci siano dei fronti costituiti da molti cittadini che hanno deciso almeno di andare a votare, ma anche di chi ha deciso di rinunciare ad esercitare questo diritto e poi quello rappresentato da chi non deciderà fino all'ultimo. Il problema non è solo italiano, è stato affrontato anche da molte università europee. Quella di Pisa, per esempio, ha messo a punto il navigatore elettorale, un'applicazione online molto intuitiva e facile da usare, che aiuta gli elettori a orientarsi tra le varie proposte politiche delle prossime consultazioni. Bisogna in pratica collegarsi al sito e rispondere a 32 domande. A questo punto l'utente viene posizionato su una mappa dove può vedere a quale partito è più vicino. Secondo i ricercatori, il navigatore elettorale è uno strumento indipendente che consente all'elettore di orientarsi meglio in fase di estrema incertezza e con un'offerta politica così ampia. Ma sentiamo direttamente le voci di alcuni cittadini per vedere se hanno già deciso di votare o no e anche perché. Certo che ci vado e tutti ci devono andare. Non ancora perché non saprei chi votare, è quello il problema. No, non lo sappiamo ancora. Siamo ancora indecisi. Sono indeciso, non so se vado a votare, sono indeciso, molto indeciso. Perché non saprebbe chi votare? No, no, non so neanche se c'è un'alternativa. Aspetto il programma. Aspetto di capire bene il programma. Decidero. Decidero. 4 di marzo. Io vado. Va a votare, già ha preso una decisione. Sì, sì, sì. Quindi sa perfettamente. Sì, sì, sì. Ok. Non lo dico, verrà. Certo, certo. Non va a votare? No. Perché non lo ritiene giusto o perché non c'è possibilità? È tanto inutile. Ah, inutile? Secondo me. Lì c'è un conflitto tra me e lei. Lei sì, io onestamente no. Perché no? Perché mi lasci dire, votare il voto è la cosa più importante che abbiamo. È come diritto, è come dovere. Quindi ha un peso e ha anche una sua dignità come scelta. Al momento ci chiedono di scegliere un pilota che è cieco, è pazzo, è alcolizzato o drogato. Lei lo prenderebbe l'aereo. Andare a votare dovrebbe essere un dovere. Che poi uno la giri a destra o a sinistra, però andare a votare. Perché cosa succede? Di quello che non vanno a votare, danno la facoltà di vingere quelli che sono i soldi. Per conto mio è necessario andare a votare. Sì o no? Sì, certo, sicuramente. Quindi hai già deciso anche perché votare? Sì. Lei? Anche io, sì. Sicuramente non perdo il diritto di voto. Però non ho. Io andrò a votare, certo, sicuramente. Perché è giusto andare a votare. È giusto andare a votare. È il nostro dovere. Ha già deciso, sai già. Sì o meno sì. Ok. Lei? Certo che vado a votare. Sempre votato. È un diritto e un dovere. Ma è già deciso chi votare? Decisissimo da sempre. Passiamo adesso a un'altra polemica, quella per fermare le speculazioni sul cibo e per difendere l'agricoltura italiana, che finirà in Europa. Alessandra Dallacà. Non solo fake news circolano in rete e finiscono poi nella nostra quotidianità, fuorviando i nostri pensieri. A rischio falso ci sono pure i cibi. Purtroppo non è una gran novità, considerato che i prodotti made in Italy sono fra i più copiati e contraffatti al mondo. L'ultimo report della Coldiretti ha denunciato come all'estero sei prodotti su dieci siano falsi made in Italy. Falsificazioni appunto che valgono 60 miliardi di euro e che nell'ampio dossier stilato sono state ribattezzate come la tavola dell'inganno, perché fra salsa pomarola venduta in Argentina o il caccio cavalo brasiliano, passando per la zottarella prodotta in Germania o gli spagheroni che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati olandesi, un po' a stare dalla parte di chi vive e lavora nel bel paese seguendo determinati disciplinari, ci si irrita. Questo è l'ormai assodato Italian sounding, quel fenomeno che consiste cioè nell'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia in prodotti che però di made in Italy non hanno proprio nulla, con un picco delle imitazioni negli Stati Uniti e in Sud America, per poi passare agli altri continenti e ad altri paesi dell'Unione Europea. E poi ci sono appunto i ripetuti episodi di anonimato alimentare, nel senso che oggi nel carrello della spesa un prodotto su quattro non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane, fino al latte in polvere per bambini. Per fermare le speculazioni sul cibo e per difendere l'agricoltura italiana, proprio la Coldiretti, che ha smascherato la lista dei prodotti della spesa più a rischio, ha avviato la raccolta firme sulla petizione hashtag stop cibo falso, per chiedere al Parlamento Europeo che i consumatori abbiano la possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che portano in tavola. Nonostante i passi in avanti che abbiamo fatto grazie alle battaglie organizzate dalla nostra organizzazione, un ultimo esempio è l'entrata in vigore dell'etechettatura obbligatoria per il riso e la pasta, restano ancora a ampi margini di miglioramento, ha affermato il presidente provinciale Coldiretti Alessandria, Roberto Paravidino. Questa petizione vuol difendere le nostre produzioni e il lavoro dei nostri imprenditori, bloccando le speculazioni che ostacolano l'economia del territorio. Tra poco la pagina sportiva, parleremo di basket, il Palacima di Alessandria ospiterà da venerdì a domenica le fasi finali della Coppa Italia femminile. Fabrizio Mattana ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione e ci parlerà anche dei risultati dei campionati sia di basket che di pallavolo. Subito dopo le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.